Se si ha come obiettivo il full front, devi fare 18 minuti di allenamento casalingo, lo prendi, no, a partire di scherzo. Se si ha come obiettivo il full front, lavorare in advance o straddle con un angolo tra braccio e busto leggermente più chiuso per simulare l'angolo del full potrebbe essere una buona idea. Allora, quindi utilizzare la stessa leva di sbilanciamento che in full. Ottima cosa che il fatto che tu guardi la leva di sbilanciamento perché alcuni in advance hanno una leva che è completamente diversa dal full. Qua ti dico, dipende, perché ho visto che tante persone hanno un attivino travisato quello che sono alcune informazioni che ho detto rispetto a questo. Cioè non è che, cioè dipende anche da quanto tempo tu alleni il front. Se tu non hai mai fatto volume in advance, devi fare advance a corpo libero. Se vedi che hai fatto tanto tempo advance a corpo libero, non riesci minimamente a uscire dallo stallo. Ci sta che magari vai a mettere dei lavori con delle loop con intensità più avanzate per abituarti a una leva nuova. Se invece tu, cioè, stai lavorando in advance a corpo libero, in advance hai la stessa leva del full front, io ti consiglio di fare tanto volume sull'advance perché tanto vai ad abituarti più o meno alla stessa leva del full e sicuramente lo prenderai abbastanza facilmente. Se tu hai già fatto il full con la loop e vedi che comunque lo sbilanciamento è simile. Però ovviamente capirai anche con l'aumentare il tuo livello di forza, se senza la loop avrai uno sbilanciamento simile. Magari la loop ti tira su lei e di conseguenza ti sbilanci meno di quanto dovresti sbilanciarti per quello che può essere un lavoro libero sul full front lever. Qua dipende anche dal tuo livello, proprio a livello generale. Perché se tu sei già arrivato a un one leg advance, un one leg tuck, poi dipende anche da quanto sei mobile sul gluteo, un advance aperta, vedi quanto ti sbilanci indietro. Se tu vedi che già tra advance e advance aperta la tua leva inizia a cambiare tanto, quindi advance a 90 gradi o aprendo l'angolo, vuol dire che in full probabilmente sarai ancora tanto più sbilanciato indietro. Di conseguenza devi mettere forza gradualmente qua. Perché dipende sempre anche da quanto pesi, ci sono 10.000 cose strettamente legate alla soggettività che dovremmo valutare insieme. Puoi mettere anche dei pull down per mettere forza su tutto quello che è l'angolo di lavoro. Dipende sempre da quello che è la tua casistica. Però ci può stare, come dire. Ciao! 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 Grazie a tutti.